1.000% 1.000% 1.000% 1.000% di qualificazioni in Champions La probabilità? 1.000% Siamo in Champions ragazzi, guardate qua che schifo Faccio cagare perché Ho esultato lanciando l'acqua Alla matematica qualificazione in Champions League Una serata ragazzi Incredibile Allora Una minima speranza nell'Ellas ce l'avevo Devo dire la verità, potete andarvi a vedere il video che abbiamo fatto ieri Da Kino Abbiamo fatto uscire in cui dico Occhio che c'è anche quella partita lì La partita che non sta cagando nessuno Mi aspettavo un'Atalanta migliore Contro il Milan Invece il Milan ha fatto una grandissima partita A quanto vedo dal risultato Perché io ovviamente ho seguito la Juventus E un po' la diretta sul tablet con Sky Go In questo momento immagino che i tifosi napoletani I giocatori del Napoli Tutto il Napoli sarà lì Distrutto Visto che Fuse Gamer aveva 15.000 persone In live Quindi saranno devastati completamente Io vi invito a festeggiare insieme a me Con un mi piace Un commento a questo video Che sarà storico E poi vedremo cosa succederà Per la Juventus del futuro Ma stasera dobbiamo solo festeggiare Perché questa stagione Non è stata una gran stagione E dobbiamo festeggiare soltanto Il fatto che questa stagione Non è andata nel dirupo Non è crollata Non è caduta Particolarmente in basso È stata salvata in extremis All'ultimo Da Faraoni L'eroe meno atteso Della storia Una Juventus che Veramente deve ringraziare Qualche santo Lassù nel cielo C'è OneFootball Qui sotto in descrizione Scaricatelo stasera Perché è il momento migliore Per scaricare OneFootball Ragazzi è il momento più idoneo Per scaricare OneFootball Perché quante bombe Arriveranno Una dietro l'altra Bam 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 Concluso ufficialmente Il campionato Ci sono tutti i giochi fatti Adesso si parla di futuro Dall'allenatura Al calcio mercato Agli europei Quindi veramente Rimanete aggiornati Con OneFootball Rimanete aggiornati Con OneFootball Io Ancora una volta Ve lo torno a dire Io Non credo Che la Juventus Abbia meritato Questa qualificazione La Champions Ma vi spiego C'è un merito E uno un merito Questa sera Assolutamente nel momento decisivo Abbiamo fatto vedere Chi siamo Abbiamo veramente Ci hanno sbloccato Le ultime partite Ragazzi Incredibile La Juventus È diventata Una squadra Nelle ultimissime partite Che vi devo dire La colpa è di nessuno Almeno è tornata squadra Perché era partita bene Poi c'è stato Un grande punto interrogativo In mezzo Il buio L'oscurità Sembrava che Pirlo Avesse completamente Perso La squadra Invece poi Una reazione d'orgoglio Dopo quel 3-0 Del Milan Una serata Che parte Con l'esclusione Di Cristiano Ronaldo Una serata Che parte bene Subito col vantaggio Segnato Siglato La Federico Chiesa Però Una Juventus Che arriva all'ultima giornata Agli ultimi istanti Doversi giocare Una qualificazione Una qualificazione Per la Champions League Per forza di cose È una stagione fallimentare Per la Juve È forse Una qualificazione In Champions Che è un po' Scurata dal fatto Che la Juventus Doveva fare Completamente Un'altra stagione Poi Ovviamente Il campo La classifica Lo sport Dicono che Se la Juve in Champions È meritata Perché ha raccolto Più punti del Napoli Cortomuso Minnesota Pinsoglio Acciugo Per chi è rimasto In live Tutta sera Insieme a me Io adesso Ve lo dico Tranquilli Preparatevi Preparatevi Perché avevo già spoilerato Cosa sarebbe accaduto Cosa succederà E succederà La Juventus È andata in Champions Non perché È il Napoli Ma la Juventus Stasera Preparatevi Perché Perché sarà così La Juventus È andata in Champions Per un motivo Sapete bene A cosa mi riferisco E non perché il Napoli Non ha vinto Non ci sarà un mea culpa Da parte del Napoli Che è stata la squadra Che ha permesso Quell'1% Diventare 1000% Ora Sapete bene Che ci abbiamo giocato Tanto su questa percentuale Ed è stato giusto così È stato giustissimo così Bisogna partire umili Testa bassa Perché se eravamo In quella situazione lì Ce eravamo messi noi Ce lo eravamo meritati E per quello che vi dico La qualificazione è meritata Sì ma fino a un certo punto Perché per quella Che era l'ambizione Per quella che era la squadra Per quello Che era l'idea dell'Eventus L'Eventus doveva vincere Il decimo squadetto consecutivo Si qualifica invece La Champions League Per il rotto della cuffia Capite quanto suona male E invece Una squadra come il Napoli Una squadra come il Milan Partiva sicuramente più indietro Nella scala gerarchica E hanno fatto un super campionato Hanno overperformato L'Eventus è underperformato Per questo Tante volte mi sono ritrovato A dire Che non ce la meritavamo Poi ce la siamo meritata Perché noi All'ultimo stacco L'ultimo momento Quindi stasera col Bologna Abbiamo risposto presente Abbiamo fatto una Prestazione incredibile Forse una delle migliori Prestazioni di quest'anno Ovviamente va detto Che il Bologna È stato poca Pochissima cosa Ma la Juve stasera Anche senza Cristiano Ronaldo È stata una grandissima Io poi ho visto Ronaldo festeggiare Ronaldo soffrire Guardare il cellulare Quindi Spirito di gruppo Coesione Tutti che andavano a abbracciare Pirlo Queste cose sono belle Adesso vedremo Cosa accadrà a Pirlo Vedremo se Se sarà confermato Se Se sarà esonerato Se Non penso di missionario Perché lui Ce l'ha già fatto capire Lui continuerebbe Io ripeto Sarebbe il cambio in panchina A patto che Ci possa essere la possibilità Di andare a ingaggiare Un buon allenatore Un allenatore Da cui abbia senso ripartire Attenzione Non dovremo ridimensionarci Particolarmente Quindi Si presuppone che Alcuni pezzi pregiati Potranno rimanere la Juventus E' ovvio che una Juve Ancora in Champions La possibilità di andarsi A giocare la Champions Si traduce in una speranza Di permanenza di Cristiano Ronaldo E parallelamente Nella speranza Di un grande allenatore Che magari conosce Particolarmente bene Cristiano Ronaldo Che potrebbe darci La possibilità Di fare una buona Champions Perché ci meritiamo Una buona Champions Con Ronaldo Perché non l'abbiamo ancora fatta Da quando arrivato Ronaldo Abbiamo un ultimo Ono di contratto Poi ci sono Tante cose Complicate Come il rinnovo di Dybala Rinnoverà Dybala Andrà via Dybala Ora possiamo iniziare A parlarne Ora si Ci sono delle pagelle Delle live reaction Per concludere questa stagione Poi c'è il pagellone C'è il vendiamo Otteniamo degli attaccanti Appunti Per sapere Voi cosa avete deciso Voi cosa avete votato Voi cosa volete fare Con alcuni giocatori In particolare Ronaldo Dybala Ma la cosa più importante Signori Questa sera È che è avvenuto Il miracolo sportivo Il miracolo sportivo Nel quale veramente Non credevamo più All'espulsione di Bentancur Nessuno pensava Di poter andare in Champions Alla sconfitta contro il Milan Nessuno pensava di poter andare in Champions Col 2-0 Del Napoli A Firenze Nessuno pensava di poter andare in Champions Al gol di Ramani Questa sera Nessuno pensava di poter andare in Champions Alla fine siamo in Champions E alla fine siamo in Champions Perché il calcio E anche queste cose qua Storie incredibili Di squadre Che partono Bene Poi vanno male Poi perdono dal Benevento Non vincono mai Con Benevento La Fiorentina Pareggiano con il Crotone Pareggiano con l'Ellas Che poi alla fine Ci salva il sederino Quel gol di Barak È stato Il nostro addio Allo scudetto definitivo Il momento in cui tutti abbiamo capito Quello scudetto sarebbe andato a Milano Sponda Inter E poi proprio l'Ellas Con Barak squalificato Ci regala Questa gioia immensa Quindi Signori Dobbiamo veramente ringraziare Qualcuno là in alto Non so se siete credenti Se credete In un insieme cosmico Di coincidenze Però Il campo Ci ha fatto un regalone Quest'anno Perché se fossimo andati In Europa League Avremmo soltanto dovuto dire Colpa nostra Perché magari non vinceva il Bologna Magari vincevano le altre E abbiamo fatto il loro Sicuramente il Napoli In questo momento Dovrà fare un grosso Grossissimo Mea culpa E anche il Milan È stata una settimana Tesissima per il Milan Che se vince a Cagliari L'altra sera Magari cambia tutto Quindi è stato veramente Un incastro Incredibile Di coincidenze Chi in questo momento Si sofferma a parlarvi Soltanto Del Vare Del rigore Di quadrado È perché Di calcio O ne ha visto poco O non capisce niente Dovrebbe soltanto Chiudere la bocca E dire Se non sono arrivato A un determinato risultato Probabilmente È perché ho sbagliato qualcosa Questo è il modo migliore Per iniziare a crescere E cambiare la mentalità Anche dei tifosi Perché noi tifosi Facciamo parte delle squadre C'è poco da dire Sotto questo punto di vista Stasera Vogliatevi bene Festeggiate Per un traguardo Che sembrava inaspettato È stato Un'agonia Un'ansia incredibile Questa maglia Dovrà buttarla via Bruciarla Perché puzza incredibilmente Vi voglio bene Grazie per essere stati insieme a me In questa lunga E faticosissima stagione Targata Andrea Pirlo Con la speranza Di poter vedere Una Juventus Il prima possibile Con il trecolore In mezzo al petto Perché E' quella lì La nostra dimensione